Confermato l'impegno del governo alla proroga della CIG fino al 2023 per i lavoratori Alitalia, la decisione annunciata dai sindacati al termine della riunione al Ministero del Lavoro. Ulteriori esigenze di cassa integrazione per il 2024-2025 saranno valutate rispetto al processo di assorbimento dei lavoratori di Alitalia e Nita. E mentre il ministro Orlando studia ammortizzatori sociali al femminile pensando alle donne che lavorano in Alitalia, i sindacati chiedono una commissione di studio per analizzare le cause della crisi delle aziende e del trasporto aereo.